Numero uno Tutti insieme per dare un calcio alle difficoltà. È stato in occasione della festa di Natale che la Polisportiva Pieve al Toppo ha organizzato un pomeriggio di sport a solidarietà e impegno sociale. Al fianco dei tesserati della Polisportiva sono infatti scesi in campo i ragazzi diversamente abili della struttura a podere modello gestita dalla cooperativa Agora per una serie di attività fisico-motorie. La giornata si è conclusa con una cena ed ovviamente lo scambio degli auguri di Natale. Ogni volta che ci mettiamo in gioco è sempre bello perché si fa la nuova conoscenza e abbiamo le nostre possibilità.